Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo come ospite Erminio Mazzucco, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Io intanto partirei proprio dal ruolo dell'Ordine, perché immagino che abbiate delle missioni più interne, magari più ordinistiche e poi anche una certa apertura per altri tipi di iniziative e di visioni. Allora, l'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico, con tutti i problemi, i vincoli, i limiti, con le normative che sono proprio degli enti pubblici. I nostri compiti principali sono quelli ovviamente di tenere i registi e gli albi degli Avvocati, di seguirne la carriera, anche dal punto di vista sanzionatorio, perché riceviamo le segnalazioni e trasferiamo al CDD, cioè l'organismo disciplinare. Organizziamo eventi, perché c'è un obbligo formativo da parte di tutti gli Avvocati. Gli Avvocati devono essere sempre competenti, capaci, abili, pronti, informati e formati. Quindi istituiamo e seguiamo i corsi della scuola per i praticanti, la scuola forense, perché c'è un obbligo di formazione che dura 18 mesi ed è il passaggio imprescindibile per poter poi affrontare l'esame di Stato, l'esame per ottenere l'abilitazione ad Avvocato. Abbiamo compiti, ad esempio, di opinare le parcelle, cioè per dire se una parcella è congrua, è conforme alle tariffe che noi possiamo applicare, e tutta una serie di altri, ad esempio di composizione, ad esempio di controversi tra gli iscritti, o anche perché abbiamo una specie di camera conciliativa, anche tra i clienti e gli Avvocati. Cioè abbiamo una serie di compiti molteplici, oltre che ovviamente di rapporto con le varie istituzioni, che sono il Tribunale, la Procura, gli enti che agiscono sul territorio, dalla Prefettura, tutto quello che può coinvolgere la vita della professione forense. Ma oggi la figura dell'Avvocato si è evoluta rispetto al passato? Allora, devo premettere una cosa da cui, secondo me, non si può decampare. È che la professione dell'Avvocato è forse, e rimarrà sempre, una delle più nobili in assoluto, perché ha come scopo la tutela dei diritti intangibili, inderogabili della persona. Cioè togliere l'Avvocato vorrebbe dire togliere giustizia, togliere libertà, togliere sicurezza ai cittadini. Ecco, questo è il primo punto. È chiaro che l'Avvocato non è più l'Avvocato dei tempi di Cicerone, e neanche l'Avvocato di vent'anni fa. Cioè c'è stata un'evoluzione in tutti i sensi, sia dal punto di vista organizzativo, degli studi, sia anche dal punto di vista proprio della preparazione professionale. Allora, devo dire intanto che non si può prescindere dallo studio, perché le persone che svolgono l'attività dell'Avvocato sono tutte persone molto preparate, che hanno studiato molto e continuano a studiare, perché devono offrire un servizio di altissima qualità ai loro clienti, ma soprattutto alla giustizia. La figura nostra è molto cambiata perché ormai il processo è cambiato. È cambiato nelle modalità di svolgimento, è cambiato anche nelle modalità di approccio. Tant'è che ormai si parla di documenti digitali e di trasmissione telematica, di udienze virtuali, telematiche, per cui la nostra professione è un'altra cosa. Però alla base di tutto rimane sempre la capacità dell'Avvocato di difendere i propri assistiti e, prima ancora, di difendere quello che è il valore della norma. La norma è sempre un'indicazione di comportamento che i consociati devono seguire. E la norma è perfetta quando prevede anche una punizione, perché l'accogenza della norma sta in questo. L'Avvocato è quello che riesce a interpretare la norma e nell'attività di difesa, ma non solo nell'attività di difesa, ma anche di consulenza, perché non necessariamente il nostro ruolo è quello di difendere in sede di tribunale o dal punto di vista proprio dei luoghi istituzionali, ma anche qualcosa di arricchimento della persona attraverso una serie di pareri, consulenze, consigli che si possono dare. C'è stato, si è parlato di riforme della giustizia, si è votato per le riforme della giustizia. Insomma, però lì si parlava più di procedure e di misure, peraltro, anche. Sì, allora devo dire questo come premessa, che da quando io sono studente, sono stato studente di giurisprudenza, ci siamo parlati di riforma della giustizia. Io ormai sono un vecchio avvocato e mi ritrovo ancora nel mezzo di riforme della giustizia. Cioè, queste riforme entreranno in vigore, spero, tra poco. Spero nel senso che, dopo non so, nel contenuto, se miglioreranno proprio la nostra realtà giudiziaria. Ci sono delle riforme che riguardano tutti i campi della giustizia. Quello che a noi interessa direttamente, non so, è la giustizia civile, la giustizia penale. Devo dire che quando cambiano i governi, quando cambiano le maggioranze, si impone una nuova idea di giustizia. Allora, un tempo la giustizia era molto semplice, nel senso che c'erano dieci comandamenti e quelle erano le regole che valevano per tutti. Ora, nemmeno, credo, i ricercatori statistici sappiano quale sia il numero delle leggi in Italia. Chi parla di 300.000, chi parla di un milione di leggi. Nessuno può conoscere tutte le leggi, tant'è che l'abilità dei giudici e degli avvocati non è quella di conoscere a memoria le leggi, ma quella di sapersi orientare tra le leggi. Ora, l'evoluzione delle riforme, che cosa riguarda? Diciamo, se affrontiamo il campo del penale, visto che abbiamo avuto anche un precedente incontro per quanto riguardava la visita al carcere, su questo punto la realtà carceraria induce a delle riforme. parto da questo dato drammatico e la contabilità non è finita. Mi pare che siamo arrivati a 57 suicidi in carcere all'inizio dell'anno e molto spesso questi suicidi riguardano giovani detenuti. Allora, noi che siamo padri e abbiamo delle responsabilità, dobbiamo comprendere le ragioni del perché i nostri figli siano in carcere e perché nel carcere poi decidano di togliersi la vita. Quindi due drammi che si cumulano insieme. La nostra Costituzione, in verità, l'articolo 27 direbbe due cose. Che la pena consiste in un trattamento che non può essere contrario al senso dell'umanità. La seconda è che dovrebbe avere una funzione rieducativa. Io mi sono sempre posto questo problema. Se qualcuno uscito dal carcere esca come persona rieducata al vivere secondo i valori della civiltà. Questo è un problema che pongo in generale. Davvero non so se adesso mi sono dilungato troppo, ma potremmo parlare singolarmente delle riforme. Cioè la riforma tendenzialmente adesso, per quanto riguarda il penale, cerca di, se possibile, evitare l'istituzione carceraria. Adesso il sistema punitivo italiano si svolge in questo modo. C'è un giudice che decreta la condanna, la soluzione, e nel caso di condanna poi ci sarà un altro giudice che si chiama Tribunale di Sorveglianza che provvederà all'esecuzione della pena. Come sono due figure distinte. E quindi sorvegliare e punire, come in un libro di Foucault. Questa è la dinamica. Si cerca nella riforma, sostanzialmente, invece di trasferire delle competenze, cioè di avere due soggetti che decidano più o meno alla fine sulla stessa cosa, che sia già il giudice del Tribunale a stabilire la pena. E nelle pene si dà maggior spazio, per esempio, ai lavori di pubblica utilità. Perché credo che sia anche nell'opinione di qualsiasi cittadino, che si pone di fronte ai problemi della giustizia, a discezione dei casi gravi, dei soggetti pericolosi, i quali meritano una pena che deve essere scontata, in un ambito di reclusione, perché possono essere anche pericolosi per la società. ma negli altri casi tutti hanno capito, ci sono tante esperienze, che hanno visto delle persone pulire i giardini, lavorare nelle segreterie degli uffici, collaborare con gli enti pubblici, con l'associazione di volontariato, nelle case di riposo. Ecco, che la gente sia socialmente utile in quello che fa nel momento in cui scontano a pena. Una domanda che ci si pone è la figura dell'avvocato d'ufficio. Sì. Chi paga? Allora, intanto, diamo una definizione a questo avvocato d'ufficio, anche per capire come mai c'è questa figura dell'avvocato d'ufficio. Allora, la giustizia, il sistema della giustizia vuole che nel momento in cui una persona si è indagata, cioè si è sottoposta a un procedimento penale, non direttamente già al giudizio, ma fin dall'inizio, si è stabilito che abbia, si è affiancato, come dice il nome, proprio da un avvocato. Fin dall'inizio. E il sistema della giustizia, lo Stato dice, al momento io ti nomino un avvocato, questo sarà il tuo avvocato nominato da me, quindi d'ufficio, con l'avvertimento però che tu potrai nominare un avvocato di fiducia in qualsiasi momento, in modo tale che la persona che è indagata fin dal primo atto abbia l'assistenza di un difensore. Questo per un principio proprio di giustizia che risale al diritto romano. Noi dobbiamo essere tutelati fin dal primo istante, perché il procedimento penale è il procedimento che nega la libertà, cioè o addirittura un tempo anche la vita. Cioè le cose che noi abbiamo di più sacre possono esserci negate per il fatto che non siamo stati adeguatamente difesi. Per cui fin dall'inizio un difensore. C'è anche l'avvertenza però scritta sulle carte che quel difensore anche se nominato d'ufficio deve essere pagato come un difensore di fiducia. Cioè il difensore d'ufficio non è il difensore gratis. È un difensore che deve essere comunque pagato. Allora qui si pone un altro problema che vale anche per la giustizia tributaria, per la giustizia amministrativa, civile oltre che penale. Delle persone che non hanno redditi. Allora queste persone per queste persone secondo delle soglie di reddito possono beneficiare del gratuito patrocinio. Però per godere e beneficiare del gratuito patrocinio devono avere un reddito all'incirca di 10.700 euro. Si devono calcolare però anche i redditi dei conviventi. Per cui se vi sono due persone che lavorano una da 8.000 e una da 7.000 è la soglia già superata per cui la persona non può beneficiare anche se il suo reddito personale fosse inferiore a quella cifra che prima ha indicato. Peraltro nel penale questa cifra viene aumentata di circa 1.000 euro per ognuno dei componenti della famiglia che non hanno reddito. Allora vi sono in verità molte famiglie molte persone perché la constatiamo ogni giorno quasi nelle nostre riunioni quando dobbiamo ammettere i gratuiti patrocini del civile perché il penale lo fa direttamente al tribunale e constatiamo che molte persone sempre quasi più numerose formano l'istanza di potersi avvalere del gratuito patrocini e il gratuito patrocini vorrà dire che le persone non pagheranno l'avvocato e l'avvocato verrà pagato dallo Stato non si sa quando ma verrà pagato dallo Stato. Si si è letto insomma sui giornali in realtà è una cosa di cui poi abbiamo parlato anche noi della possibilità di spostamento di attività del tribunale a Treviso. Sì se ne parla da anni però devo dire in verità anche avendo avuto rapporti direttamente con il ministero che non si paventa concretamente questa possibilità anzi dovrei dire che nell'ambito del modo di ridisegnare la geografia giudiziaria i capoluoghi di provincia dovrebbero essere garantiti in merito alla permanenza del loro tribunale. Il problema si pone per quei capoluoghi che hanno più sedi di tribunale all'interno della loro provincia province come quelle di Belluno almeno in questo momento non dovrebbero avere alcun problema. Ok e quindi questo era purtroppo l'ultimo argomento che possiamo affrontare perché il tempo purtroppo corre la ringraziamo veramente per essere stato con noi e appunto anche per aver spiegato alcuni meccanismi che magari al cittadino o all'uomo della strada non sono molto chiari e molto noti. Grazie mille. Grazie molte. E quindi vi ringraziamo per essere stati con noi. Buona continuazione. Grazie mille.